Raccogliere fondi per uno scopo nobile, la beneficenza. Da tanti anni è questo l'obiettivo dell'Interclub Sant'Eputio di Monopoli, che, come di consueto, anche in occasione delle feste natalizie, è sceso in piazza domenica 10 dicembre per collaborare con l'associazione Amo Puglia, Assistenza Malati Oncologici Puglia, macroarea di Monopoli, al fine di vendere le stelle di Natale, piante simbolo delle festività in questo periodo. Abbiamo già iniziato domenica scorsa, stavamo nelle contrate a Monopoli, Antonelli, Gorgo Fredda e Santa Lucia. Noi giriamo e poi arriviamo al nostro obiettivo e abbiamo la nostra storia con l'Amo Puglia. Visto il tempo avverso caratterizzato dalla pioggia, i volontari del locale Interclub, da piazza Vittoria Emanuele, dove avevano allestito un banchetto per la vendita solidale, hanno trasferito l'attività nella propria sede di via Tenente Vitti. Qui la vendita è continuata con lo stesso spirito sociale, sostenuti da alcuni volontari presenti dell'Amo Puglia. Una bella iniziativa, ripetuta ogni anno con costanza, che nel tempo ha costruito un sodalizio forte tra la Onlus e il Club dell'Azzurra. Se non riusciranno a venderle tutte, le venderemo nella nostra sede, in via Tenente Vitti 70, quindi chi desidera comprarle e sostenerci può venire lì.